There's no place I'd rather be 5, 4, 3, 2, 1 E io a tutti ragazzi al film Oggi ragazzi siamo qui Donate una buonissima parodia Oggi ragazzi siamo qui Fa la parodia parodiosa di Saluto Antonio So che questo è un video vecchio Però in moltissimi hanno richiesto Il mio intervento per fare questa parodia E io vi ho accontentati Ringrazio Silvia appunto Borracino su Instagram Perché mi ha consigliato lei per prima Di fare questa parodia Per questo video ragazzi mi raccomando Aggiungiamo 15 mila like E niente cominciamo Oggi Ennesima persona che non mi saluta Ne abbiamo 11 giusto? Ma si ne abbiamo 11 11 anni L'11 del mese L'undicesimo mese dell'anno 11 cronosomi 11 novembre Oggi è lunedì A me invece è il 30 febbraio 2015 Sono le 3 e 40 del pomeriggio Ma si non sono mica le 15 e 40 No sono le 3 e 40 Vabbè Sto andando a lavorare con mio padre Antonio Ah lo va a lavorare Mi dicevano che si poco nuterrone Saluto Antonio Ciao Antonio Un bacione da Milano Un bacione Oggi Oggi Pausa riflessiva Sono a lei Oggi lui è a lei Esco con gli amici Ci vado a libero Andiamo a fare la spesa Non mi ha comprato a mangiare Perché tengo fame Mi faccio una canna No io invece dopo vado a comprare La droga si Con Con i soldi di youtube Vado a comprare la droga Insieme a Gino Vieni Gino Ecco dopo andiamo a comprare la droga con Gino Mi sa che Gino Mi sa che già la comprata L'ha pure provata Ma io non sguardo Antonio Ci vedo un po' Proprio uno stato di allegria Poi felicità al massimo Guarda Allora Che cosa facciamo oggi? Scusa Ci hai detto due secondi fa Quello che devi fa E mo gli chiedono Antonio Quello che devi fa te Scusa Che cosa facciamo È nervoso oggi Lo sai che se in questo momento Tu spegnessi la telecamera Lui ti mollerebbe In ceffone Di quelli che Te fanno volare Purtroppo devo andare Perché mi devo andare a comprare l'album Della Champions Champions League Della Champions League Dove devi andare a comprare l'album E poi Come ce la compri la droga? Come ce la compri Se non hai i soldi Se ti spendi per l'album Della Champions League Della Champions League Champions League Della Panini Vabbè Mi sa che i panini Si è un po' magnati E questo è tutto Ciao Salute a noni Ciao Un saluto Vabbè basta Bene ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se ci aggiungiamo 15.000 like Ragazzi mi raccomando Stalkeratemi Su tutti quanti Social Network Trovate il link Sotto nella descrizione Sociale iscriviti 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 Nel altro Belli E niente ragazzi Ciao 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 Ciao